sono le finali vinte ai rigori il light motive dell'estate 2021 e così come gli europei la squadra rossa della lons di calcetto ha vinto la summer cup allo sporting club di prato un torneo internazionale che vede partecipare tanti talenti del calcetto grandissima vettore grazie al nostro pekken power quest'anno vanno i rigori no nel senso quindi anche voi avete vinto a rigore siamo stati fenomenali una serata tra musica e ceringhito per tornare alla voglia di stare insieme dobbiamo fare una premiazione d'impatto chiamando dei personaggi importanti e una televisione importante come italia 7 la francesco i ragazzi è sempre importante attirarli anche con una serie di iniziati no ma guarda io sono venuto un paio di volte però quello che mi è piaciuto è stato proprio tutto l'ambiente l'accoglienza da parte della famiglia sonetti da chi lavora in ristorante e danno tutto l'entourage che cristiana ha creato e quindi c'è solo da fare bene tanti premi anche le squadre che sono arrivate al podio la memoria bronze 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 quella quella più scarsa vabbè si può dire però insomma 4 a 1 sì sì è andata bene premiati anche super portieri e bomber io ringrazio mio babbo che mi guarda da lassù